Il fatto è che proprio il Warlock all'interno di D&D è sempre un bordello, metterceli, ruolarli, farli anche capire, perché purtroppo fosse che uno, infatti una cosa che fa per esempio un mio master o una cosa che facevo anch'io, era mettere non per forza patroni malvagi, perché purtroppo la maggior parte dei patroni dei Warlock ti dicono guarda ogni mese me devi sgozzare 10 bambini, me devi fare cose, se c'è sta qualcosa che me serve che devi fare, devi andare a fare. Sono sempre quei personaggi che messi all'interno di un party, non dico che erano scompiglio, ma sono difficili da gestire, perché ok sì magari non sono per forza di cosa malvagi perché sono stati fregati nel fare il party e tutto quanto, sì, ma comunque devono fare cose malvagie, cioè nel senso se fossimo stati in una sessione di D&D D&D il patrone che vede il Warlock di livello 1, ok la scusa è che è di livello 1 perché c'ha il parassita, ma il patrone che vede il Warlock di livello 1 che non ha fatto una cosa come uccide Garlak, altro che gli metto i cornetti, ma lasciamo perdere che a mezz'ora in questo caso serviva per tutti gli inciuci cazza pippoli, ma il patrone su un cula veramente a sangue il Warlock eh? Eh, una cazza abbia proprio. Ma infatti io molte volte, ripeto, per ovviare a sta cosa inserisco entità all'interno del mondo che ti permettono di fare un Warlock buono. Però il fatto è che molte volte quando tu fai queste cose qui rischi di ricadere tra virgolettone nel paladino, perché questa è un po' una mia anche opinione discordante, però io per esempio il Warlock l'ho sempre visto come una sorta di, non dico paladino perché è la parola sbagliata, però è l'altra faccia della medaglia. Cioè il paladino per avere le sue cose deve fare il buono, deve fare il giusto, deve dare valore al proprio voto. È sbagliato come approccio, però è quello. Però esatto, Will è il Warlock che fa il paladino, per questo io ho detto adesso, adesso che in mezz'ora se ne è andato a fa un culo tecnicamente, e lui è diventato la lama dell'Avernus, lui sarebbe molto più sensato respeccarlo come paladino della giustizia, che protegge le persone dal male e cazza pippoli. Però appunto è difficile. Il Warlock è una delle classi secondo me più difficili da ruolare all'interno di un party standard, perché solitamente il party standard non sarà mai legale buono, cioè sarà sempre solo qualcuno, è raro. Cioè solitamente in generale l'allineamento generico di un party di media è il caotico. Cioè fammo un po' come cazzo ci pare. Però appunto puoi sistemare la cosa mettendo all'interno dell'ambientazione delle entità benigne. Cioè tipo, ok, vai a uccidere delle persone perché così liberi le loro anime che possono essere purificate. Cioè erano malvagi, ma le prendo io, le purifico, qualcos'altro. Che cazzo dico qui. E le carabone nelle mie campagne spesso finivano maledetti e poi sodomizzate da qualcuno. Come giusto che sia. Anche lì, lei ci sarebbe anche un altro discorso da fare perché ci si ricollega tantissime volte agli allineamenti che le persone, perché io sono legale buono, quindi se il mio amico fa una qualsiasi cosa cattiva devo smaitargli in testa. Quella... Madonna, ma anche al contrario la gente che dice io sono un caotico malvagio, quindi devo ammazzare bambini. Ma perché Dio Cristo? Ma che cazzo vuol dire? L'esempio più bello, delegale, buono, Nadar di Intel. Dio Cristo, fatto di Dio quel... Removalo? I Pagno Duolata E È Qui 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 Qui